Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video, video ricetta. Ebbene sì, stamattina mi sono svegliata con una voglia pazzesca di crostata alle fragole e quindi Riccardo è andato al supermercato, mi ha comprato le fragoline e alcuni ingredientini per fare la crostata e ho pensato di condividere la ricetta insieme a voi, quindi spero vi piaccia e spero venga buona più che altro. Quindi vi faccio una carrellata degli ingredienti, spero di essere chiara, di spiegarvi bene la ricetta, in caso fatemi domande nei commentini perché non sono abituata a questa tipologia di video. Buona visione! Per preparare la frolla, che è la prima cosa da preparare, vi occorrono 150 g di farina 00, 75 g di zucchero, la scorza grattugiata di mezzo limone, un pizzichino di sale, io ho messo questo qua giusto per farvi vedere gli ingredienti ma userò quello classico, e due tuorli freddi dal frigo, e 90 g di burro, qua è un panetto da 250, andrò poi a pesarlo ovviamente. E invece per quanto riguarda la crema chantilly, vi serviranno tre tuorli d'uovo, 100 g di zucchero semolato, 30 g di nuovo di farina, sempre 00, 300 g di latte, eccolo là, la scorza di un quarto di limone, 250 g di panna per dolci, questa qui va bene sia per dolci che per salato, e bisogna aggiungerci lo zucchero, quindi zuccherate a piacere, e per la copertura ovviamente 600 g di fragoline, eccole lì, che io in più essendo in dolce attesa andrò a lavare, a disinfettare ovviamente, e più o meno della stessa dimensione se possibile, e vanno tagliate ovviamente a fettine. Per lo sciroppo di zucchero invece vi serviranno 100 di acqua e 100 di zucchero. Grazie a tutti. 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 infatti vedete tutta qui ne ho messa un po meno insomma tanto la crema mi è venuta molto molto densa quindi va diciamo ad equilibrare il tutto mi sono aggiustata in questo modo insomma a Grazie a tutti. Grazie a tutti.